Arrestati dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito e malmenato lo scorso luglio 1,16enne in uno stabilimento balneare di Pescara, in manette sono finiti questa mattina due diciassettenni su disposizione del GIP e del Tribunale dei Minori dell'Aquila, denunciata per lesioni a piede libero a sua volta la vittima che per vendetta dopo qualche settimana malmenò uno dei suoi due aggressori. Mi dispiace essere stati costretti ad adottare una misura estrema quale è quella detentiva nei confronti di due ragazzi che a quell'età dovrebbero stare sui banchi di scuola o comunque in famiglia, però purtroppo è una misura che si è resa necessaria per interrompere un'escalation di violenza che poteva avere conseguenze ben peggiori, quindi la Procura dei Minori d'intesa con il Tribunale ha voluto agire in questo senso per mettere un freno a questa spirale di violenza che stava rischiando di diventare incontrollabile. Hanno agito forse non avendo pienamente il senso e la contezza di quello che commettevano, della gravità dei loro gesti. Il tutto è nato da una banalissima lite, poi questi contrasti si sono inaspriti, c'erano due gruppi contrapposti che ne avevano fatto anche una questione territoriale, perché provenienti da due zone diverse della città, il risultato però alla fine è che un ragazzo che è stato ferito seriamente, è stato colpito più volte al capo con una spranghe e quindi è rischiato anche la vita. Intagini che sono concluse? Per il momento sì, però c'è ancora un episodio al vaglio della Procura che è la terza aggressione che c'è stata quando la vittima del pestaggio più grave poi ha deciso di vendicarsi facendosi giustizia da sola, quella è ancora sotto la lente di ingrandimento della Procura. Grazie. Grazie. Grazie.